Un pomeriggio all'insegna dell'incontro con il Papa, del suo abbraccio e del confronto schietto anche sui temi più caldi per la Chiesa. È quello vissuto a Villa Nazareth, struttura nata a Roma nel 1946 grazie a Monsignor Tardini, che un tempo accoglieva orfani e ragazzei poveri e oggi ospita studenti universitari meritevoli in difficoltà economiche. Commentando il Vangelo, Papa Francesco si è soffermato sul valore della testimonianza cristiana rappresentata dall'albergatore che accoglie l'indigente sporcandosi le mani. Il Signore ha affermato ci liberi dai sacerdoti che vanno di fretta e dai dottori che presentano la fede di Gesù con rigidità matematica. Sempre la testimonianza cristiana è stata al centro della prima delle sette domande poste al Papa. Francesco è invitato ad agire, a rischiare e anche a sbagliare. Meglio questo che le vite parcheggiate, vite ferme da museo. Forte poi l'accento sul martirio dei cristiani, un mistero della fede, ma ce ne sono molti altri. Ma c'è il martirio di tutti i giorni. Quando tu vai, il martirio dell'onestà, il martirio della pazienza, il martirio della pazienza nell'educazione dei figli, il martirio della fedeltà all'amore. Quando è più facile prendere un'altra strada, più nascosta. Il martirio dell'onestà in questo mondo, che si può chiamare anche il paradiso delle tangenti. Il Papa ha anche sottolineato la necessità di un cristiano di andare in crisi, un'esperienza approvata da giovani, mentre ancora oggi resta il dubbio e lo scoraggiamento nella fede. Poi la denuncia del lavoro schiavo, frutto del Dio denaro, e la riflessione sul valore del sacramento del matrimonio, il per sempre che si scontra con la cultura del provvisorio. Infine, ha insistito sulla Chiesa dalle porte aperte, una Chiesa che si riconosce dall'accoglienza, la stessa che Dio ci ha riservato.